Ecco arrivano i primi dati significativi dai seggi, sono passate oltre tre ore dall'inizio dello scrutinio e stiamo sfiorando le mille sezioni scrutinate su 4800, quindi siamo sostanzialmente al 20% delle sezioni. Guardiamo rapidamente i voti ai candidati presidenti, Chiamparino è attorno al 48%, poi si profila un duello per il secondo posto che è importante e fondamentale per stabilire quale dei candidati presidenti non vincenti diventerà comunque consigliere di opposizione e qui si sfiorano sia il candidato del Movimento 5 Stelle, Davide Bono, che il candidato del centrodestra, Gilberto Picchetto Fratin, attorno al 21%. Molto più staccato il candidato del Fratelli d'Italia che è al 4,9%, circa il 5%, mentre invece in questo momento, e questo è un altro duello interessante che si svilupperà nelle prossime ore, il nuovo centrodestra Udc con il candidato Enrico Costa sta sfiorando la soglia di sbarramento del 3%, in questo momento è leggermente sotto, perché è importante questa soglia? Perché lo sbarramento del 3% per una lista non apparentata è fondamentale per partecipare al riparto dei seggi. Ecco, invece il sesto schieramento in campo, quello di Mauro Filingeri, l'altro Piemonte a sinistra, cosiddetto di Zipras, è all'1,31%, quindi in questo momento sembra tagliato fuori dalla corsa per i 6G.